Buongiorno a tutti, mi avete chiesto di continuare a parlare, ci sentiamo meno distanti e quindi stamattina faccio l'ennesimo video, mi scuso con tutte le persone che mi hanno scritto ma vi assicuro che non ce la faccio a rispondere a tutti, scusatevi. Ho letto stamattina l'argomento e naturalmente questa nota del Viminale, l'abbiamo letta tutti, ne parlano i telegiornali, in cui vanno a precisare che è possibile uscire per fare una passeggiata con un bambino o fare jogging. Bene, nel mio comune ci sono delle ordinanze, sapete, ci sono delle ordinanze e fino a che qualcuno non mi chiamerà per dirmi che queste ordinanze non rispettano il DPCM, quelle ordinanze sono valide e vi spiego anche perché. Abbiamo retto questa onda d'urto, il virus è arrivato in città ma siamo stati bravi e abbiamo retto l'onda d'urto e io non posso pensare di vanificare tutto il lavoro che abbiamo fatto in queste tre settimane a casa, manca poco, la curva si sta abbassando, dobbiamo vanificare questo lavoro, il lavoro dei sanitari che sono in ospedale, il lavoro della protezione civile, il lavoro della Croce Rossa, il lavoro degli amministratori, il lavoro dei nostri figli che hanno fatto uno sforzo in mano e stando a casa, dei nostri anziani, perché cosa? Perché qualcuno deve andare a correre o qualcuno deve portare non so dove i figli a fare, al parco a respirare, ci sono le ordinanze, 100 metri da casa, si scende, si prende una boccata d'aria uno alla volta e si torna a casa. Io non posso pensare di vedere le foto del nostro personale all'ospedale di Giulianova, al 118, completamente bardato, chiusi, completamente in una tuta, otto ore, che mi dicono che non possono andare al bagno, che deve essere vanificato perché qualcuno andrà a farsi una corsetta. Non è tollerabile, non è tollerabile. È una mancanza di rispetto incredibile. Io sto a casa e sto portando avanti il secondo comune della provincia da casa e quindi non vedo per quale motivo qualcuno non può pensare di lavorare a casa. Se qualcuno non può, naturalmente deve andare a lavorare, l'abbiamo spiegato più di una volta, è giusto che ci vada. Ma oggi vi assicuro che abbiamo lavorato bene, ci siamo sforzati, abbiamo fatto dei sacrifici in mani. Io credo che la data del 18 di aprile sia una data, se continuiamo ad essere rigidi, una data in cui si intravede uno spiraglio di uscita e oggi qualcuno, io comprendo che chi sta a Roma non ha bene sotto mano il pozzo della situazione, tant'è che ho sentito l'assessore Gallera che abbiamo imparato a conoscere, l'assessore al welfare della Lombardia, che la pensa come me. Ho visto l'assessore, il presidente della regione Campania, De Luca, chi ha il polso della situazione sa che è questo il momento critico, non bisogna assolutamente pensare che ne siamo venuti fuori. Dobbiamo esultare ogni sera alle 6 quando la protezione civile ci dà dei numeri, ma non significa che ci dobbiamo rilassare, dei numeri positivi, ma non significa che ci dobbiamo rilassare, anzi, dobbiamo mantenere la calma e dobbiamo assolutamente invitare tutte le persone che ci sono attorno a stare a casa. Solo così riusciremo a vincere questo terribile virus, solo così. Ringrazio i più piccoli che sono quelli che soffrono di più, ringrazio gli anziani che sono quelli che fanno una difficoltà in mano a rimanere a casa in questo periodo, ma solo così per altre due settimane arriveremo al punto in cui potremmo tornare in maniera graduale alla nostra quotidianità. altrimenti succede quello che è successo in Lombardia, lo ha spiegato benissimo stamattina Gallera, in Lombardia hanno avuto un inizio con un picco, poi erano tornati, erano precipitati i numeri. L'8 marzo, col fatto che si è tornati quasi alla vita normale, l'8 marzo ha avuto un incremento del contagio alla Lombardia, l'8 marzo in poi, incredibile, non ce lo possiamo permettere. Il virus è in città, lo abbiamo contenuto, ma è in città, stiamo a casa, vi prego, usciamo, il minimo è indispensabile, chi deve andare a lavorare ci deve andare assolutamente, deve cercare di proteggersi, mantenere questa distanza sociale, non è più la parola d'ordine, è tutti lontano da tutti, vi prego, manca poco, si intravede la luce, non ci dobbiamo rilassare, dobbiamo esultare quando la protezione civile alle 18 ci dà dei numeri, ma questo non ci deve far psicologicamente rilassare, dobbiamo stare a casa, ancora due settimane e probabilmente torneremo gradualmente a una vita normale, vi prego, grazie, vi abbraccio a tutti, forza!